Oh ragazzi, buon gododay e bentornati incredibili su Bendy e The Ink Machine Mamma mia, il godo Prima cosa ragazzi, vi devo ringraziare per il supporto allucinante Che mi avete dato per il primissimo episodio di Bendy e The Ink Machine E sono veramente contento che la serie vi sia piaciuta Sia il video che lo shorts sono andati molto bene Quindi ragazzi, vi ringrazio tantissimo che il godo sia con voi, incredibile È passato qualche giorno dai primi due episodi di Bendy, ragazzi Incredibile, io sono presissimo Vedo che a voi vi piace tantissimo ragazzi Quindi il godo sta arrivando anche in Bendy e The Ink Machine ragazzi Lascia il rifugio Primo episodio ti introduce un pochino al mood di Bendy Finisce il primo episodio dove veniamo attaccati da quello che io ho chiamato Bendy palestrato Perché effettivamente assomiglia a Bendy palestrato Però è sus, non è proprio Bendy come era figurato, puccioso e carino È un Bendy diverso, quindi è un po' sus questa cosa Cadiamo nelle profondità di questo posto e scopriamo quanto è grande Secondo capitolo a che fare con la musica Vi ricordate c'era l'enigma della musica Incontriamo quel tizio che io sinceramente ancora non ho capito come si chiama Secondo me è uno di quelli che abbiamo ascoltato le registrazioni Però nel secondo episodio abbiamo scoperto che c'è proprio un culto dedicato a Bendy Quindi è confermato che Bendy sia una specie di demone Ovviamente io mi sto dicendo tutti i miei puntini ragazzi Poi io affineranno e collegherò tutti i puntini Però a quanto pare il nostro collega che ci ha fatto tornare qui Può essere pure che per mantenere questo posto vivo Abbia fatto tipo un patto satanico Con un demone chiamato Bendy E in cambio di non so che cosa Bendy forse gli ha dato la macchina dell'inchiostro Come desiderio, passatemi il termine Però poi questa macchina dell'inchiostro si è rivelata essere una macchina mortale Perché necessitava sacrifici Per mandare avanti e creare cartoni animati Che però prendono vita Un po' come Poppy Pillay Time Abbiamo incontrato nel finale del secondo capitolo Boris che noi pensavamo fosse morto Questo è un altro Boris o è il Boris vero Sempre questo quesito alla Poppy Pillay Time Che di fatto ci ha aiutato e ci ha fatto venire in questo rifugio incredibile ragazzi Quindi forse adesso parleremo per la prima volta con Boris Boris può parlare come può parlare Bendy Di fatto quel tizio che aveva una maschera da Bendy era un umano Poi abbiamo pure scoperto quelle gelatine sus Quindi quando moriamo risorgiamo come inchiostro Quindi anche noi siamo inchiostro perché siamo morti Se tu non muori rimani umano ma se muori rinasci visto che c'è quell'immagine Che risorgi dall'inchiostro e risorgi come inchiostro e non più come umano Ragazzi tanta roba Questo capitolo si chiama su e giù e Boris ci ha aiutato Quindi Boris non è cattivo Quindi per adesso l'unico cattivo è Bendy tra virgolette Andiamo ragazzi sono presissimo Ma poi soprattutto quanto è grosso questo posto? Ok qui c'è un bagno Specchi rotti noi ovviamente non ci possiamo vedere Inchiostro ovunque Ok abbiamo aperto il bagno Ok ragazzi abbiamo fatto i nostri bisognini Abbiamo pure tirato la catena ragazzi Bisogna sempre tirare la catena nei bagni Incredibile Tra l'altro mi piace molto che i capitoli durino proprio il tempo di un video ragazzi Quindi GG Qua ci sono dei panni stesi E Boris dov'è? Ma ciao Guarda com'è tutto susso è Boris Ma guardalo Ci sta aspettando eh Va bene Boris ma tu parli oppure no? Ti prego parlami dimmi qualcosa Ah non parla? Qui sta giocando a carte Boris Henry Sta giocando quindi con qualcuno chiamato Henry Forse il tizio susso dell'altro episodio Peccato ragazzi Non lo devo immaginare che Non era uno di tante parole Però guarda come ci guarda con lo sguardo in base a come ci muoviamo Va bene Ok ragazzi purtroppo Boris non ha niente da dirci Qui c'è una cucina Quindi lui abita qui praticamente È un disegno di Bendy Però con attaccate parti di altri cartoni animati Cioè voi volevate creare Una creatura fatta di pezzi di tutti i cartoni animati? Niente Ho provato a suonare tante volte Mi dicesse qualche cosa Invece niente Non vado via così facilmente È necessario aprire la porta Però manca la leva Boris probabilmente sa dov'è Trova la leva della porta Suggerimento parla con Boris Ah allora ci posso parlare Dovevo andare lì però Oppure tenendolo in ostaggio fino a quando faccio qualcosa da mangiare per te Vediamo cosa c'è Trova zuppa per Boris Suggerimento trova dei tre barattoli di zuppa Allora Lui non parla Però se gli facciamo da mangiare Forse ci dice dov'è la leva Trova tre barattoli di zuppa Ce l'abbiamo una Ok ci servono altri due barattoli Uno Ci serve un altro barattolino di zuppa Dove sarà nascosto? Forse è qua dentro Eccolo Questo dovrebbe essere tutto sufficiente Fare zuppa per Boris Ok De niente Non ci dice ancora niente Boris Ti sto cuocendo la zuppa io Tieni mangia amico Ecco qua Ma dai Ma che carino Quindi volevi veramente solo mangiare Oh mi raccomando ragazzone Quando te bevi la bacon soap Sta attento che al bagno ci vai la velocità della luce Ecco perché ci sono tanti bagni qua Ok ragazzi Lascia il rifugio Suggerimento di rizza la leva Va bene grazie Boris Sus Ci lascia andare via tranquillo Vabbè tanto abbiamo fatto da mangiare Trovo una nuova uscita Ah Ok Ciao Boris Io stavo andando via amico E io stavo uscendo ma Boris mi segue Vediamo cosa c'è fuori Non schivare Però non ha mangiato borello Lui l'avrei fatto mangiare prima no? Qui c'è un altro Ok Questo non me l'aspettavo Non promette bene Se io mi posso nascondere negli armadietti Vuol dire che c'è qualcosa Di pericoloso Come dire Che se ci vede ci ammazza Ok ragazzi Questo non promette bene Boris tutto bene Qui c'è un bendisus E Boris si è bloccato Va bene Sembra che sia davvero buio Più avanti Troviamo un paio di luci Entra nel buio Suggerimento trova una torcia elettrica Wow Ragazzi ma è un continuo Cioè più Sì però Boris Questi jumps Che era l'improvviso Però ragazzone Anche no Evidiamo Questa l'avevamo vista L'altra volta Alice Angel Boris Tutto bene? Amico? Non avere paura Boris Terò la luce vicino a te Per non farti perdere Ragazzi Mamma mia Che ansia Tra l'altro non abbiamo neanche un'ascia Non siamo neanche armati Non promette bene Ok Ah paura del buio Guarda se non gli illuminiamo la strada Qua era la paura Vabbè ci sta Ragazzi Eh l'ho sentito benissimo quel rumore Ai 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 ragazzi Qua non promette bene Ma soprattutto Il tizio dell'altra volta L'avrà ammazzato Bendy Perché voleva fare un sacrificio con noi Ma Bendy alla fine ha fatto il sacrificio con noi Un altro piccolo cieco Non vedo altro modo Hai qualche idea Boris? Parla con Boris Ah ok Gli abbiamo dato la torcia E lui va qui sotto Borello Ok Boris Mi raccomando a papà Boris tutto bene amico? Trovo una nuova uscita Ok Ah siamo nella Nella fabbrica di giocattoli Di Bendy Carino Wow Che posto assurdo Non ricordo di niente Tutto questo Wow Quindi lui non se lo ricordava Ma che spettacolo ragazzi Peluche di Bendy giganti Cartonati Wow Quindi lui però L'ha lavorato in un posto Che non poteva immaginare Che ci fosse tutta sta roba Oppure sta roba è stata costruita dopo Ci sono due immagini nuove Hell In a basket Quindi l'inferno In un cestino E poi Bendy pompiere Tutto cacca a che fare con l'inferno Il fuoco Lui che è un piccolo demone Insomma ragazzi Tanta roba qua Qui ragazzi sicuro usciranno dei mostri Ma noi non abbiamo armi Quindi non possiamo difenderci Oh possiamo salvare? Meno male Qui possiamo tirare la leva? No Perché c'è sempre qualcosa Che blocca la porta Ci deve essere un modo Ripara la macchina dei giocattoli Suggerimento ripristina La leva energetica Va bene Però voglio vedere un attimo I giocattoli Ah ok Loro erano i protagonisti Quindi a Boris Bendy Poi Alice Va bene Io me ne comprei Sti giocattoli ragazzi Un giorno li compro tutti Guarda Qui c'è un piccolo Slime di Bendy Che se tocco cambia immagine Ok Mui è diventato Boris Mui è diventato Un diavolo Ora è diventato Una macchina dell'inchiostro Ok quindi Bendy piccolo Boris Bendy cattivo Macchina dell'inchiostro Ok Va bene Sean Flynn Non so quale sia il problema Chi se ne frega Del fatto che io Abbia dipinto alcuni Bendy Col sorriso storto Ok Questo non è un motivo Per cui il signor Drew Mi improvvi E se davvero vuole essere Così utile Potrebbe dirmi Cosa dovrei fare Con quel pieno deposito Di quell'angelo Quindi riferito a A quella tipa Che si chiama Angel Non so cosa Nemmeno un pezzo Di quella merda Si esaurisce Mazza cattivo questo Probabilmente Mi sciolgo tutto Per sbarazzarmene Vabbè la traduzione Non è proprio massima Infatti ce lo dovremmo Rigiocare in inglese Secondo me Dovrò sciogliere tutto Per sbarazzarmene Probabilmente voleva dire Però strano che il personaggio Di peluche Ok questa è partita Ok Vabbè ragazzi Questo era un po' Complicato Ok No non serviva L'ascio Dovevo raccogliere Dei peluche Ok E la macchina è ripartita Adesso Posso tirare questa E si è aperta la roba Va bene Ah ma stiamo per incontrare La super waifu Di Bendy ragazzi Mi devo mettere bello Allora Ecco Que E la macchina Io stavo per fare La battuta Che mi volevo Prendere un peluche Ragazzi Mi devo aspettare Un jumpscare Qui che Mi sa promette male Eh sono un angelo Alice Angel Ragazzi Signorina Buongiorno Lei è molto carina Simpatica Signorina Va bene ragazzi Alice Angel Ci vediamo Una nuova mosca Nella mia infinita Ragnatela Va bene Vieni ora Vediamo se siete degni Di camminare Con gli angeli With angels Ok Allora ragazzi A parte il jumpscare Che ci sta Tra l'altro sono spariti Tutti i peluche Tranne uno Vabbè Sono andati a ruba Vedo Diciamo che però Posso dire una cosa Nonostante sia diventata Un pochino più mostruosa Rispetto a Com'è disegnata Alice Angel Top waifu Di Bendy Di Bendy Di Bendy e Dink Ragazzi sto provando A sdramatizzare la situazione Grave in cui siamo Ve lo dico sinceramente Va bene Adesso abbiamo quindi Alice che ci perseguita E per questo che ci hanno messo I bussolotti dove nasconderci Ragazzi Per questo motivo The Demon and the Angel Allora però ragazzi Se c'è questa diciamo Relazione fra Bendy O quel che è Bendy O quel che era Bendy E lei Boris in tutto questo Che cos'è? Cioè devo interpretarla Addirittura a livello Demone Bendy Umano Boris Angel Angelo Quindi c'è una divisione Tra umani Angeli e demoni Andiamo in quella strada lì Ma qui devo seguire due strade La strada dei buoni La strada dei cattivi Facciamo gli angioletti Giusto perché ragazzi Angel è una bellissima guai Ah ma è proprio una scelta Eh ragazzi Se ho sbagliato Me lo dovrete dire voi ragazzi Ho fatto una cavolata A scegliere la strada di Angel E non quella di Demon In caso ragazzi Quando rigiocheremo il livello Andremo dall'altra parte Eh Chissà se ce n'era un altro Dall'altra parte ragazzi Susie Campbell Che è quella che doppiava Questo personaggio Tutto sembra crollare Quando sono entrata Nella cabina di registrazione Oggi Sam era lì Con quella Ellison Quindi era lì Con il personaggio Vivo in 3D Ok figo A quanto pare Non ho rinvenuto il memorando Alice Angel Sarà ora doppiata Dalla signorina Alice Pendle Una parte di me è morta Quando lui mi ha detto questo Deve avere un modo Per risolvere questo problema Comunque ragazzi Posso dire che i cartonati Di Bendy Secondo me Andrebbero a ruba Anche adesso Che dite Qui c'è sempre Bendy Che si sorride ragazzi E ora sono curioso ragazzi Chissà dall'altra parte Che succedeva Qui mi posso nascondere Ragazzi Vedrete voi Che tra un po' Lei sarà in giro E noi ci dobbiamo nascondere Vedrete voi Devo avere paura Di un jumpscare qui Non so Mi puzza di jumpscare Sta porta Oh buona Ok no Ancora niente Ok Io non ho parole Ragazzi Ma come è possibile Che io dico Adesso c'è uno jumpscare Ci sono quei 15 secondi Di vuoto Dove il mio cervello Pensa che non ci sia più E poi Bendy arriva È incredibile ragazzi Questo gioco ha I migliori jumpscare Di tutti i mascot horror game Che ho portato fino adesso E c'è Boris Va bene Prendi l'arma da Boris Un tubo Vabbè siamo passati Da avere Un'ascia A un tubo Va bene così Però domanda Secondo me è Boris Che mi ha fatto Il jumpscare Con questo cartonato di Bendy Oh Alice Sta attenta Che sono armato È pericoloso Io ve lo dico Qui sono i giocattoli Ma quanti giocattoli Ci stanno Assurdo Beh l'orologio di Bendy Ragazzi me lo comprerei Ok Boris Sembra che per aprire questo Dovevo mettere due levi In una sola Tu prendi questo E troverò l'altro Ah Qui c'è un altro di questi Quindi questi mi sa Che sono i checkpoint Se moriamo Risponiamo Dove c'è l'altarino di Bendy Va bene Ok Boris Se rimane qui Dobbiamo cercare un'altra leva Va bene Un'altra registrazione Wall-E e Thomas Wall-E Ok vediamo di nuovo Se la pressione Sopra i 45 Stringo il bullone In Thomas No Se raggiunge i 45 Rilascia il blocco di sicurezza Wall-E Sei sicuro? Sai sembra più difficile Che paragonare cera d'api Con cera di candela Thomas Guarda Non è così difficile Wall-E Senti Se pensi che farò il mio lavoro Il tuo sono fuori da qui Ah Personaggi nuovi The Butcher Gang La Gang del Macellaio Cioè è un continuo questo gioco Di momenti inaspettati Che sono uno più bello dell'altro Cioè C'era scritto Bendy E la Gang del Macellaio Con tre tizi Questo tizio E altri due Che sembravano una scimmia Un uccello tipo E adesso ci sono pure i nemici armati E mi voleva morto male Trovo una nuova uscita Però scusami Io voglio andare a esplorare qui però Il creatore ci ha mentito Qual è la macchina dell'inchiostro? Ok Quindi qua non si può da nessuna parte Però abbiamo visto la macchina dell'inchiostro Che scende nelle profondità Di questo posto assurdo Che sai che vuol dire Ti sembra familiare Quindi abbiamo letto Una roba ti sembra familiare E abbiamo visto la macchina dell'inchiostro cadere Va bene Un episodio ragazzi È una perla per adesso Di questa serie Andiamo avanti Boris eccomi Secondo me mi rimette tipo la vita La back on soap Boris è velocissimo Va da solo Questo inchiostro sembra quasi sangue Capito? Come se ci avessero ammazzato Delle persone qua È livello K Ma quanto è grosso sto posto? Sei così interessante È così diverso Devo dire che sono Una grande appassionata Ok stiamo scendendo Hai un appuntamento con un angelo Perché ecco più o meno Bendy è così Cioè sopra c'era il negozietto E sotto tutto questo Ok abbiamo salvato Un'altra registrazione Ma se è la quarta Thomas Connor Questi ascensori maledetti A volte si aprono A volte no A volte arrivano A volte continuano ad andare all'inferno E tornare Continuo dicendo a tutti Che se il mister dio Continua a diminuire i costi così Qualcuno morirà Eh mi sa che è successo E di certo non sarò io Sto salendo le scale E si scoprì che tutto questo Si basava sul fatto Che un tizio è arrivato qui sotto Ha scoperto Bendy E hanno fatto il patto Magari da sotto Che ne sapete Eh sì È proprio tranquilla Angel Sussa Ok Boris è partito Tantissimo Tra l'altro lei parla Invece Boris non parla Questa è una scena importante Ah no Vedi non è solo Boris È anche il tizio Che ci ha attaccato prima Quindi alcuni venivano clonati E sacrificati Forse per la macchina di un inchiostro E questo Boris è sopravvissuto Angel no Di Angel ce n'è una sola Come di Bendy forse ce n'è uno solo Beh questa scena è assurda ragazzi Wow Tutto bene Boris? Eh lo so ragazzone Arresti fatto questa fine Mi sa tu eh Guarda intorno Ci sono voluti così tanti di loro Per farmi così bella Ah ok Qualcosa di meno che è perfetta È stato lasciato indietro Dovevo farlo Lei mi ha fatto Quindi lei per diventare così bella Ha eliminato tutti questi qui Tutti questi cloni Di personaggi dei cartoni Wow Susie Campbell Sempre la doppiatrice di lei Chi lo direbbe? Sto pranzando con Joe Drew Il nostro collega Sembra che le cose siano più difficili Di quanto mi aspettavo Per un attimo ho pensato Di rimanere Conbloccata con l'assegno Ma devo dire Non era per niente Quello che mi aspettavo Un po' incantevole Lui mi ha chiamato Alice Mi è piaciuto Ah quindi forse c'è una relazione Fra Drew E lei E lui forse ha creato Il personaggio di Alice Da lei Può essere pure Boris l'abbiamo perso ragazzi E noi andiamo avanti ragazzi Dobbiamo andare a incontrare Alice Eccola qua Alice Ora mi avevo in mente un'idea Ti immagini Noi abbiamo preso Il patto dell'angelo Ti immagini Se prendiamo il patto del demone Dovevamo a un certo punto Uccidere Boris Noi con quest'arma magari Sarebbe assurdo Eccola Alice Ma quanto sei bella signorina Ah vedi Sta risucchiando l'energia Da un altro di quei cosi Ora vediamo la questione Devo ucciderti Lascerai il mio cuore Per la tua gioia Le scelte del bello Sono insopportabili Come una ragazza sceglie Pezzo per esempio Si trascinò fin qui Trascinato dal suo inchiostro Contaminato alla mia porta Questo tizio qua Avrei potuto toccarmi Avrei potuto tirarmi indietro Sai cosa vuol dire? Viva nelle pozzanghere scure E' un ronzio Urlando bene le oglie Pezzo di la tua mente Nuotando Come un pesce una ciotola Per una volta che sono nata Dal suo grembo d'inchiostro Stavo dimenandomi Come una lumaca senza forma Quindi lei è nata da Bendy La seconda volta Mi ha fatto un'altra Non lascerò che il demon è un pochino Quindi quando muore tu risorgi E puoi cambiare Vedi sono così vicino ora Quindi quasi perfetto Quindi se il demon è un problema Tocca è un problema Ok Ti risparmerò per ora Meglio ancora Cioè ci lascia liberi Se la aiutiamo Torna dall'ascensore Il mio piccolo corriere Abbiamo del lavoro da fare Segui gli ordini di Angel Suggerimento Ritorno all'ascensore Dobbiamo lavorare per lei E forse lei ci lascia andare via Ecco perché il capito Si chiama Su e Giù Perché effettivamente Facciamo Su e Giù Tutto il tempo Allora ragazzi Ha detto delle cose importanti Però allo stesso tempo Devo ancora collegare bene i puntini Quindi è tutto un po' Un casino Di fatto lei parlava di rinascita Come se la prima volta Che fosse nata Non si sentiva bella La seconda volta Si sentiva bellissima Però non vuole farsi toccare Dal demone E ha detto Non so se eliminarti o no Ti potrei far fare la fine Di quel coso che Le mie macchine sono affamate Raccoglie alcuni pezzi di ricambio Quindi o facciamo quella fine Oppure la aiutiamo E forse ci lascia liberi Però ragazzi Non mi convince Raccogli tre ingranaggi speciali Tip cerca le scatole Di ingranaggi in giro Ci sono così poche regole Per il nostro mondo oggi Così poca verità Ma c'è una regola Che tutti conosciamo E rispecchiamo qui Attenzione al demo dell'inchiostro Resta fuori per un lungo tempo E lui ti troverà Se per caso lo vedi È meglio che ti nascondi Se invece no Beh mi è piaciuto Il nostro appuntamento Bene Ragazzi dobbiamo trovare Gli ingranaggi Ancora non ne ho trovato Manco uno Ok E ho capito ragazzi Ma dove li trovo gli ingranaggi Scusami Tutto chiuso qua Ok Vabbè li sciottiamo Non è male Cerca le scatole Di ingranaggi nel livello K Ah nel livello K Noi stiamo facendo le scale Come diceva l'audio Per tornare al livello sopra Ah ecco perché non lo trovate ancora Perché stiamo a livello 9 Dobbiamo tornare al livello K Ok Quella frase non promette bene Che ha detto Angel Quindi secondo me Quel bendy muscoloso Ce lo ritroviamo tra un po' qui Livello P Ragazzi continuiamo a salire Però non promette nulla di buono Sto posto Abbiamo acceso la radio Nel capitolo 3 Abbiamo preso un achievement Va bene Livello 2 Va bene Ancora non ci siamo arrivati A livello K C'è credo che Alice Ci vuole di di ragazzi Pensa se doveva fare lei Tutto sto lavoro Wally Franks Non capisco Tutti fanno come se la nonna Fosse appena morta Sguardi arrabbiati dappertutto Queste persone Dovano alleggerire la cosa Volevo dire Lavoro con i cartoni animati Il vostro propito È quello di fare ridire la gente Ti dico una cosa Se queste persone Non iniziano a sorridere Ogni tanto Io sono fuori Va bene Inchiostro Oh ci siamo riusciti Lo avete incontrato Il demone dell'inchiostro Dicono che è capace Di sentire tutto Ogni scricchiolio del pavimento Ogni fruscio di carta Ok Abbiamo preso un ingranaggio Ce l'aveva questo tizio Assurdo Due Ok Preso Trova tutti ingranaggi Ok mi ha detto Che devo tornare da lei Posiziona ingranaggi Nella casella Del deposito Nel livello 9 Perché hai paura? È sempre stato Un buon bugiardo Beh? Forza? Oh no 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 Via 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 Non l'avevo visto ragazzi Non l'avevo visto E mi ha ammazzato No allora ragazzi Ci deve essere qualche cosa Di susso Allora scusatemi Livello 9 Perché adesso Non c'è di nuovo Quel momento ragazzi Secondo me Sono sicuro Che è un finale Non devi né mai morire Né mai far perderti da lui Sono sicuro di questa cosa Ok Vi hai visti Quelli gonfi Sì Quelli le amebbe Stanno pieni di inchiostro Di forte spessore Mi fa ammalare Quindi lei vuole proprio Stare chiusa qui Non vuole uscire Ancora È la cosa perfetta Per mantenermi insieme Se devi imparare a catturare Devi imparare a muoverti con calma Torna alla mia porta Ho qualcosa di cui avrei bisogno Prendi la siringa Dell'inchiostro Eccola Prendi tre inchiostri Molto spessi Ah Questa non l'ho capita Ma non devo fare così Qui però non c'è altro Boh Non capisco Caccia dei senzioni Fiedi a livello 9 Ma noi non siamo a livello 9 Ragazzi Mi sa che dobbiamo finire L'episodio qua ragazzi Questo capitolo è veramente lungo Io sto quasi a un'ora di registrazione Quindi Dobbiamo fermarci qua ragazzi Continueremo nel prossimo episodio Non so cosa devo fare Con questa siringa Non promette bene E ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi Chissà che succederà Incredibile L'episodio qua ragazzi